Buongiorno, a nome dell'Università di Torino vi porgo il benvenuto in questa nostra sala, che è la nostra nuova Aula Magna. Mi spiace che non sia grande il doppio per coloro che purtroppo sono rimasti fuori, ma spero che vi troviate bene in questo pomeriggio. Siamo stati molto lieti di offrire quest'Aula perché questo, un evento come quello di oggi, fa parte della nostra terza missione. L'Università ha la sua prima missione nella ricerca, la sua seconda missione nella didattica, che è qualificata e aggiornata grazie al suo legame stretto con la ricerca. Da un po' di tempo in qua sta sviluppando una terza missione, che è il trasferimento delle conoscenze alla società civile, al pubblico, dagli esperti ai noi, la comunicazione dei risultati e del metodo della ricerca, dagli esperti ai non esperti. E qui siamo esattamente in una circostanza di questo genere, siamo stati anche molto lieti di dare questa sala ad un evento organizzato dal Centro Scienza, nell'ambito dei Giovedi Scienza, una delle istituzioni culturali private più affermate, più qualificate della città di Torino e che ne è un vanto in tutta Italia per questo tipo di attività. Non potremmo avere un interlocutore più, un ospite più qualificato per fare questo. Così come non potremmo avere ospite più qualificato di un relatore come Piero Angela, che ha insegnato a tutti noi questa attività e come chi lo presenterà, che anche lui, giornalista scientifico affermato, ha dato un grande contributo a passare questa comunicazione tra gli esperti e i non esperti. Ricordando che ciascuno di noi, in una società così complessa come l'attuale, è sempre non esperto di qualche cosa, è esperto soltanto di una piccola parte che è quella che serve per la sua professione o per la sua vita quotidiana. Il tema è molto bello, un viaggio nella mente, un tema, se volete, che visto dal punto di vista della ricerca universitaria, è un tema di neuroscienze, che sono un campo interessantissimo all'incrocio tra biologia, medicina, psicologia, scienze sociali, molto nuovo, quindi il miglior augurio che posso fare a voi, soprattutto ai più giovani, è che questa conferenza vi incuriosisco un po' e magari qualcuno di voi, dopo la conferenza, dopo averci pensato sudica, ma io quando vado all'università vorrei proprio approfondire, diventare specialista, esperto di qualcuno di questi temi che ho sentito oggi per la prima volta. Grazie di essere tutti qui, grazie ai relatori, grazie al Centro Scienza per averla... Grazie per questa iniziativa, a te la parola Bianucci. Grazie professor Scamuzzi, Sergio Scamuzzi è prorettore, credo, dell'Università di Torino e proprio dedicato a questa terza missione dell'università. Beh, mi viene da ricordare subito che Piero Angela è un laureato in fisica dell'Università di Torino, quindi questo è un ritorno a casa, ha otto lauree prese in giro per il mondo nelle università più strane, la più normale è quella di Torino e noi siamo molto fieri di averlo, quindi gli farei un applauso come laureato della nostra università. Io vi saluto e mi congratulo con voi perché siete riusciti ad entrare, fuori purtroppo ci sono 450 persone che mi dicono che non riescono ad entrare e questo mi spiace moltissimo, mi spiace moltissimo a Piero Angela, purtroppo lo spazio è quello che è, avevamo sperato di avere delle altre aule collegabili, ma non ci siamo riusciti. E saluto anche quelli che ci seguono in streaming, che normalmente sono 600, 6-700, quest'oggi non so quanti siano, penso molti di più. Ieri ne ho conosciuto uno, tra l'altro ieri sera ero ad Avigliana a fare una conferenza e ho conosciuto uno che ci segue in streaming. Per la prima volta ho potuto materializzare il nostro pubblico virtuale. Che dire di Piero Angela? Io non vorrei raccontarvi che ha scritto 40 libri, l'ultimo è questo, Viaggio dentro la mente, che qui troviamo nell'edizione Tascabile, Rai Eri. Non vi vorrei dire che ha venduto 3 milioni di copie in giro per il mondo, che ha fatto migliaia e migliaia di ore di televisione. Vorrei invece dirvi che c'è stato un periodo della sua vita in cui il Ministero della Pubblica Istruzione gli ha chiesto una consulenza. Adesso mi sta guardando in modo stato perché non è avvisato di questo racconto. Gli ha chiesto una consulenza e Piero Angela ha proposto varie cose, ma la più singolare e per certi versi la più indicativa del suo modo di fare informazione scientifica, di formare, perché poi diremo che non è informazione questa, è qualche cosa di più, il consiglio che lui diede, che è molto tipico appunto di questo suo atteggiamento, è mettete sui banchi delle scuole primarie una piccola bilancia, perché i bambini imparino che le cose si possono pesare e che sono un numero, cioè che ragionino in termini di quantità. E questo è, secondo me, naturalmente le bilance non ci sono nella nostra scuola e questo fa sì che nei dibattiti televisivi si continuino a confondere i milioni con i miliardi, per esempio, e cose di questo genere. Ma questo vi dà un'idea appunto di chi è Piero Angela, che non è un divulgatore scientifico, non è neanche un diffusore della scienza, e magari a lui questa definizione non piace, è un filosofo militante della ragione. La parola filosofo credo che gli dia lievemente fastidio, ma detta in questa maniera forse è disposto ad accettarla. È l'ultimo degli illuministi, è colui che in 50 anni di lavoro ha cercato di dare un'anima razionale a questi cittadini italiani che non vogliono averla e ha combattuto per costruire questa capacità di parlare di problemi conoscendoli, che è un'altra caratteristica che noi non abbiamo. Di solito parliamo di problemi, ma non li conosciamo. I problemi si conoscono se si misurano, se si hanno dei dati, se si fanno delle sensate esperienze, come avrebbe detto Galileo, e poi a quel punto si può discutere. Ma di solito non è così. Lui si batte perché sia così. Non so se è una battaglia vinta, ho paura che non sia andata tanto bene questa battaglia, perché gli stessi 50 anni che ha vissuto lui nella divulgazione scientifica, più o meno li ho vissuti io, e devo dire che l'immagine della scienza non è granché migliorata in questi 50 anni, in qualche modo si è persino deteriorata. Cioè è andato avanti un meccanismo di messa in discussione della scienza in termini irrazionali, in termini magici, piuttosto preoccupante. Il New Age sappiamo tutti che cos'è, e non è il caso di entrarci. Anche contro questo Piero Angelo è intervenuto, fondando tanti anni fa il CICAP. Il CICAP è un'associazione che adesso non ha più la caratteristica di una volta che era mirata soprattutto sul cosiddetto paranormale, o sui fenomeni cosiddetti paranormali. è un centro di persone che si occupano di scienza e che cercano di smontare la pseudoscienza. Questo è il CICAP di oggi. E quindi vedete che questi due filoni, mettere la bilancia sul banco delle primarie, e sì, diffondere la scienza, ma pensare anche con il CICAP a combattere le pseudoscienze, ecco, queste sono tre cose che vanno insieme. Che vanno insieme e fanno di Piero Angelo quello che, non so poi se gli piacere o no, me lo dirà, fanno di lui un filosofo della ragione, un militante della ragione. Mi fermo qui, perché adesso abbiamo un discorso da fare sul cervello, naturalmente. Piero Angelo mi ha chiesto di farlo in forma di dialogo, io sono contentissimo di farlo in forma di dialogo. Naturalmente le mie saranno delle piccole domande, le sue delle lunghe risposte, proviamo però a farlo così. Prima ancora, però, io vorrei chiamare un piccolo contributo video, in cui vedremo un fisico italiano che è il più importante fisico teorico che abbia attualmente l'Italia, e che si chiama Giorgio Parisi. Abbiamo un grande fisico sperimentale, grande anche fisicamente, che è Carlo Rubbia, che è il premio Nobel, ma lui è un fisico sperimentale. Se parliamo di fisici teorici, oggi Giorgio Parisi è l'erede di quello che è stato Tullio Regge, per capirci. Giorgio Parisi, che ha avuto sei mesi fa uno dei riconoscimenti più grandi a livello mondiale che possa avere un fisico teorico. E lui ha fatto un certo appello, che adesso vediamo e ascoltiamo con questo contributo video. La situazione della ricerca italiana, sia quella di base che quella applicata, sta diventando sempre più drammatica. Negli ultimi anni abbiamo avuto un enorme taglio ai fondi, e quindi 10-15 mila ricercatori italiani sono dovuti andare all'estero. E l'Italia ha pochissimi fondi per poter fare ricerca in questo paese. Il problema non è tanto in questi ricercatori che all'estero probabilmente si trovano benissimo, ma quanto che in un mondo dominato dall'economia della conoscenza, un paese che non investe in ricerca, sviluppo e cultura, non ha futuro. Per questo motivo vi invito tutti a firmare questa petizione al governo italiano, perché si parla del nostro futuro, del vostro futuro. Bene, intanto vi do una notizia interessante, cioè che l'Aula Magna di Biotecnologia è collegata in Vianizza, e quindi ci stanno seguendo. Anche l'Aula di Biotecnologia in Vianizza è collegata con noi. Quindi lì c'è un altro numero paragonabile a questo di spettatori. Allora, Piero Angela, la prima domanda che io le farei è questa. Lei ha firmato... No, mi ha insegnato che si deve dare del lei in questi casi ufficiali. Adesso mi insegni il contrario. Allora, no, la domanda è... Bisogna anch'io ti darei del lei, ma siamo tra amici, quindi... Scusate, ah, scusate. Ecco, va bene, così non avete sentito questo siparietto. Allora, la domanda è, tu hai firmato questa petizione, questa petizione che gira online di change.org, di cui ci parlava Parisi? Beh, sappiamo tutti quali sono i problemi della ricerca in Italia. I ricercatori sono bravissimi. Io devo dire che tutta la mia vita ho girato all'estero, negli Stati Uniti in particolare, ma non solo. I nostri ricercatori, basta pensare al CERN, sono veramente di altissimo livello. Molti se ne sono andati via e non sono più tornati. E qui abbiamo un problema di fondi e questo appello cerca proprio di modificare una situazione che veramente non è degna di un paese che vuole essere tra i primi solo dal punto di vista economico ma culturale. E quindi il problema è quello anche di avere, lo sappiamo, una ricerca che abbia quella che si potrebbe essere, come in altri paesi, un'agenzia che fa poi un lavoro di distribuzione di fondi sulla base dei meriti e della qualità con dei riscontri, con i controlli. Insomma, è un sistema non soltanto in termini quantitativi ma qualitativi, che deve essere aiutato perché noi abbiamo degli straordinari centri di cerca, professori e studenti che meritano di portare avanti, come diceva il professor Parisi, la conoscenza che oggi è la materia prima. Il software è quello, come si dice, che ha rimpiazzato qualsiasi altra materia del passato come ricchezza nazionale. E stasera parliamo proprio di questa ricchezza che è il Cervallo. Ricordo un libro di Piero Angela che si occupava di politica. In questo libro ci spiegava che noi abbiamo troppa fiducia nella classe politica, forse anche la migliore, non è quella che cambia e fa vivere bene un paese, lo fa sviluppare. E invece proprio l'intelligenza, la capacità di usare questa intelligenza, la capacità di innovare. E stasera parliamo dell'organo che presiede a questa funzione. È un organo a cui Piero Angela ha dedicato una grande attenzione in tutta la sua attività. La prima trasmissione, il primo programma televisivo che fece, il primo libro, fu proprio sullo sviluppo del cervello. da zero a tre anni. E poi questo è stato un filo conduttore di tutto il suo lavoro in modi diversi e a livelli diversi. Però, visto che all'inizio proprio si è occupato di come si forma il cervello, allora io domanderei a Piero Angela come si forma il cervello e che cosa abbiamo imparato più recentemente su questa formazione. Probabilmente rispetto a quel programma televisivo noi sappiamo moltissime cose di più. Le neuroscienze hanno avuto un'esplosione negli ultimi 10-20 anni. Ci sono due grandi programmi, brain, programmi sul cervello in America e in Europa. C'è stato il decennio del cervello negli anni 90-2000. Ecco, come si forma il cervello alla luce delle ultime ricerche? Beh, naturalmente entriamo qui in argomento. A me piace fare un'immagine che mi ha colpito. Sapete, ogni tanto si vede in televisione quel famoso asteroide che arriva sui dinosauri. questo pietrone che lascia una scia luminosa. Bene, è così che si è formata la Terra 4 miliardi e mezzo di anni fa. Da pietre vaganti nel cosmo, polvere, comete, asteroidi, che sono arrivati a un certo momento per gravità verso questa palla che si stava formando. Ebbene, quelle pietre lì perché erano delle pietre in sostanza, piano piano in 4 miliardi di anni e mezzo sono diventate dei cervelli. Cioè, la cosa straordinaria è che c'è stata una... sono dei sassi che hanno cominciato a un certo punto a pensare e a parlare. E veramente se non ci pensa... E la cosa che è bellissima secondo me anche come immagine è che questi sassi trasformati in intelligenza creano adesso delle scie analoghe a quelle di questi mazzi che arrivano sulla Terra e sono dei razzi che partono verso lo spazio da cui sono venuti. Ecco, l'immenso tra questi due sassi, diciamo, c'è stato tutto quello che è portato al cervello. Allora, evidentemente la formazione si muove a due momenti diversi che sono poi paralleli. Lo sappiamo attraverso la storia dell'uomo che questo cervello comincia a diventare sempre più complesso dai primi pesci che arrivano sulla Terra arrancando con le loro pinne poi pian piano trasformandosi in anfibi prima in rettili poi in anfibi poi in mammiferi e pian piano nasce questo essere primitivo in cui il cervello diventa sempre più grande. Allora, quello che spesso non viene ben visualizzato sono i tempi di questa trasformazione. Allora, se si fa, a volte è stato fatto, anche io ne ho libero tanti anni fa, l'avevo in un diagramma ricomposto. Se si prende il primo di gennaio come l'inizio della vita sulla Terra e il 31 dicembre a mezzanotte c'è qualche problema? Ci sono problemi legati alle persone che sono fuori? C'è qualcuno che vorrebbe entrare e non può entrare? Proviamo ad andare avanti. Allora, se si prende l'inizio va bene allora cerchiamo di riprendiamo proviamo a riprendere per dare un'idea di questo tempo così lungo dell'evoluzione che ha portato finalmente ad avere un cervello moderno se si prende il primo gennaio come l'inizio della vita o meglio della formazione della Terra anzi delle prime cellule 4 miliardi e mezzo di anni fa i dinosauri che sembrano così preistorici arrivano a metà dicembre e l'uomo moderno arriva qualche minuto prima della mezzanotte è negli ultimi minuti e negli ultimi secondi che tutto è successo questo è un modo di vedere l'evoluzione cellulare l'altro è quello della sua autocostruzione continua che avviene dentro il ventere materno in nove mesi e anche lì se pensate è una cosa fantastica ci sono due cellule che si incontrano un ovulo e uno spermatozoo tra l'altro in un modo straordinario perché poi non si capisce bene chi è che decide di entrare perché normalmente si vede questo guerriero questo spermatozoo che arriva sulla cellula e si fa strada per entrare quindi è lui che determina il sesso io lo vedo in modo diverso credo che sia la fortezza che apre la porta a qualcuno che ha qualche affinità di qualche tipo quindi su questo ovulo c'è dello zucchero non è il guerriero che entra ma la fortezza che apre la porta cioè che è la femmina che determina il sesso ma questo credo sarà difficile poi capirlo allora queste due cellule nel giro di nove mesi creano una persona completa con il suo cervello con la sua capacità poi di imparare di capire e questa è la fase più importante tu accennavi a questa evoluzione da zero a tre anni ma voi immaginate di essere in Cina di non sapere una parola di cinese e di non avere né vocabolari né qualcuno che vi insegna il cinese nel giro di poco tempo imparate solo sentendo imparate a parlare cinese ecco è quello che facciamo ognuno di noi ha fatto nei primi anni di vita e tutto deve essere imparato anche bisogna imparare a vedere perché quando il bambino nasce vede delle cose prima un po' scombinate poi sempre più affinate però vede ma non capisce quindi bisogna imparare a vedere e questa è una cosa in sostanza è come se voi vedeste un giornale con un titolo in ungherese voi vedete quello che c'è scritto ma non lo capite ecco il bambino deve cominciare a mettere insieme queste cose e qui comincia una lunga strada in cui all'inizio un bebè è un miliardario del cervello perché ha tutte le potenzialità diciamo è come un albero di Natale con tutte le uccine accese poi man mano userà solo certe lucine non altre e quindi si specializzerà e tante lucine si spengono cioè all'inizio ha un atto di potenza diciamo potrebbe diventare qualunque cosa poi deve specializzarsi e deve spegnere altre cose e man mano comincia questo processo di apprendimento dove il ruolo della madre è fondamentale o comunque della persona che gli è vicino perché è questa persona che lo aiuta a diventare cittadino e diventare essere pensante quindi c'è questo periodo di strutturazione del cervello in cui il cervello è estremamente plastico apprende alcuni neuroni avviene la famosa potatura di alcuni neuroni però incominciano a intrecciarsi più collegamenti tra tutti questi neuroni ed è quello all'apprendimento c'è stato un bellissimo film di François Truffaut che descriveva una storia reale avvenuta in Francia nell'Ottocento di un bambino dell'apparente età di 6-7 anni che era stato trovato in un bosco dell'Averon in Francia completamente selvaggio era stato abbandonato si era perso era riuscito a sopravvivere però camminava a quattro zampe si nascondeva dentro delle tane mordeva quando dei cacciatori l'hanno trovato e raccolto è stato portato in un centro dove un istitutore lo ha cercato attraverso l'educazione evidentemente molto difficile di portarlo nel mondo moderno senza riuscirci o solo in parte e allora lì si è visto che le candeline si erano tutte spette e questo ragazzo è stato irrecuperabile pensa che io ho visto quella documentazione di un fatto analogo successo a Boston negli anni 70 di due gemelli abbandonati dalla madre che dava solo da mangiare questi ragazzi come delle galline e sono stati trovati quando avevano 3-4 anni incapaci di camminare di parlare di avere rapporti e questo lo sono trascinati per sempre cosa vuol dire che quella è l'età critica in cui certe cose o avvengono o non avvengono più le lampadine si spegnono e questo è particolarmente tipico dell'uomo perché è l'animale che ha il più lungo periodo di educazione nel senso letterale della parola di essere guidato fuori questo è il punto esatto allora cosa succede che si è visto per esempio nell'Ottocento in particolare di bambini che erano negli orfanotrofi che venivano lasciati nelle culle tra l'altro con le pareti bianche di lenzuola e nessuno li stimolava né dal punto di vista del linguaggio del gioco della partecipazione anche dal punto di vista visivo con delle immagini dei colori questi bambini avevano dei gravi danni successivi mi ricordo che avevo fatto una lunga ricerca per fare una serie di programmi televisivi un libro e questo ricercatore di Harvard mi diceva che avevano fatto dei test e vedevano che dei ragazzi arrivavano a scuola a sei anni già con un ritardo di tre anni cioè avevano non erano pronti per una strada che è quella dell'uomo sapiens perché erano stati danneggiate nel loro nel senso che non erano stati stimolati è come una pianta che non gli invece né fertilizzante né acqua si ne ridisce e poi non riesce a recuperarla quindi l'importanza enorme di questi primi tre anni di vita quindi la trasmissione culturale perché questa è cultura quella che viene trasmessa al bambino è fondamentale nella nostra specie cioè mentre nella maggior parte degli altri animali prevale la trasmissione genetica e qui c'è una cosa interessante perché anche gli animali pensano tra virgolette o comunque hanno una loro attività persino le formiche che hanno un cervello di un millimetro o un cubo o poco più e beh hanno quando vanno in giro si vedono queste colonne che vanno in attività e hanno delle mappe mentali quindi hanno una loro capacità però è più scritta nel loro programma genetico mentre in noi è molto più plastica però c'è una parte di acquisizione tu pensa che c'è un esperimento molto interessante che è stato fatto con le formiche le formiche tu sai sono predatrici perché fanno coltivano dei vegetali di animali fanno invece di pastorizie perché vanno a predare delle larvi altrove ebbene succede che delle formiche andando a predare delle larvi che poi allevano come schiave dentro loro queste formiche di un'altra specie imparano il linguaggio che è un linguaggio chimico tattile chimico e se incontrano formiche della loro specie non le riconoscono e le aggrediscono quindi c'è anche lì una parte di apprendimento certo ma la cosa interessante quando si parla invece di intelligenza quando noi vediamo degli animali come i scimpanzei che fanno cose straordinarie i cani i gatti ebbene qualcuno ha cercato di capire quanto simili o lontani sono dagli uomini questi animali si dice spesso che lo scimpanzei è il 98% di geni simili all'uomo questo non vuol dire che è simile il 98% all'uomo vuol dire che c'è un'affinità genetica dovuta all'evoluzione ma se si va a vedere la parte importante del cervello che è questa la parte prefrontale che è quella dove convergono tutte le informazioni e qui vengono elaborate e che sono qui la base dell'intelligenza della creatività delle attività superiori allora nell'uomo questa parte della corteccia prefrontale rappresenta rispetto al cervello il 29% nello scimpanzee non il 27 il 26 il 12% quindi lì è la grande differenza il cane 7 e il gatto 3,5 questo è anche difficile poi vedere perché spesso anche noi abbiamo fatto di programmi l'intelligenza del cane e del gatto tutti e due hanno intelligenze diverse però se si va a vedere la corteccia prefrontale il cane in proporzione a più e la nostra corteccia adesso addentriamoci allora nella struttura del cervello la nostra corteccia è come sappiamo tutta corrugata perché abbiamo più corteccia di quanta ce ne starebbe nel nostro cranio credo proprio in questo libro Piero Angela ci dice che se noi distendessimo la corteccia avremmo qualche cosa come un grande fulano un grande fazzoletto di 3 mm di 3 mm di spessore e tutto lì dentro che è una cosa eccezionale e quindi è corrugata perché si cerca di ripiega una specie di origami di cellule poi se tu pensi che il cervello in realtà è fatto al 75% di acqua qualcuno un po' di più è la consistenza di un budino cioè se tu lo tocca è una specie di budino molle però dice naturalmente è un grande consumatore questo cervello consumatore di ossigeno soprattutto rappresenta il 20% del consumo di ossigeno di tutto il corpo in questa piccola parte che è un cinquantesimo del corpo e quindi anche il 20% almeno 25% del cibo degli zuccheri e poi consuma anche perché ha un consumo elettrico l'attività elettrica del cervello è l'equivalente almeno è stato calcolato così è naturalmente un paragone che non si può fare ma tanto per dare un'idea un consumo elettrico di una lampadina di 15-20 volts una lampadina di un frigorifero un costo di due centesimi al giorno quindi molto economico e molto efficiente difatti tra l'altro sai quando si fanno i confronti tra il computer e il cervello il computer per ora è straordinariamente perdente anche per una ragione che il computer lavora in dimensioni bidimensionali e quindi tra l'altro richiede di superficie estese mentre il cervello è tridimensionale e questo moltiplica anche le possibilità di combinazione si stanno cercando di fare adesso circuiti tridimensionali anche all'istituto di Genova di tecnologia dei computer che cominciano a fare dei livelli diversi di strati di chip per avere delle connessioni per imitare meglio la nostra per adesso Roberto Cingolani che è il direttore scientifico dell'IT fa spesso questo esempio dice appunto il cervello consuma circa cento watt scusate venti watt cento watt tutto l'organismo umano quindi il cervello circa un quinto dell'organismo umano e se dovessimo avere la stessa capacità di elaborazione con dei computer avremmo invece un consumo di all'incirca Manhattan dovremmo alimentarlo con tutta la corrente che alimenta il centro di New York e questo dall'idea dell'economicità con cui la natura ha sviluppato quest'organo quest'organo che anche se tutta l'evoluzione ha portato dei sistemi estremamente efficienti e poco costose perché la selezione naturale ha funzionato in quel senso e questa corteccia con altre cose di cui non abbiamo tempo di parlare ma a cui magari accenneremo questa struttura è sede della memoria delle emozioni dei sentimenti della ragione ecco allora possiamo analizzare un po' questi contenuti partiamo dalla memoria partiamo dalla memoria e la memoria è il pensiero perché senza memoria non hai pensiero c'era un bellissimo libro di cento anni di solitudine di Marchi e Marchi che raccontava un paese dove la gente aveva perso la memoria è curioso perché cominciava a dire allora questo oggetto non mi ricordo più che si chiama allora dice questa è una mucca ma la mucca cos'è? la mucca è quella cosa che fa il latte che poi serve ma cos'è il latte? a quel punto ti perdi e non riesci più la memoria si forma in un modo non del tutto capito ma insomma si capisce il viaggio attraverso le percezioni naturalmente che arrivano da tutti i sensi del nostro organismo arrivano che la parte arcaica o meglio la parte più limbica quella intermedia del cervello che è quella dell'emozione passano attraverso un organello che si chiama l'ippocampo che io ho definito e so che a Giorgio Pistrata era piaciuto molto questa divenizione è l'ufficio smistamento pacchi cioè di lì si decide che se è una memoria è importante oppure no perché? perché ha colpito oppure no l'emozione noi tutte le informazioni che abbiamo sono passano attraverso le emozioni voi pensate al film della vostra vita se di colpo faceste come in una boviola il nastro scorre velocemente cosa vedete? vedete tutte cose legate a delle emozioni quindi successi insuccessi la scuola i voti gli amori gli incidenti le malattie i lutti i viaggi tutto quello che vi rimane nella memoria è legato a delle forti emozioni questa cosa qui cosa cosa succede a quel punto l'informazione passa a vari stadi verso il cervello e c'è una secrezione di sostanze chimiche che provoca la nascita di rametti dentro la ramificazione delle cellule cerebrali in altre parole la memoria è una cosa fisica che si forma attraverso la crescita come in un albero si creano delle altre fogliorine degli altri gravetti ed è così che il cervello si arricchisce quindi io in questo momento sto influenzando le vostre memorie come voi state influenzando me perché anche io con le vostre domande che mi farete oppure anche con la vostra immagine c'è uno scambio continuo e a questo punto queste memorie vanno a sistemarsi in luoghi diversi che sono memorie visive o tattili o olfattive che hanno delle aree acustiche diverse e a un certo punto saranno richiamate per creare poi quello che io chiamo un teatrino mentale in cui voi rivedete le cose che avete memorizzato e questo siamo nella nebbia più assoluta per capire come avviene mentre Pierangela parlava di Marques e di questa idea che abbiamo dimenticato tutto e non sappiamo neanche più che cos'è una mucca che cos'è il latte e così via mi veniva in mente l'opposto che è raccontato da Borges quando ci racconta del El memorioso che invece non riusciva a dimenticare nulla e questo è un altro guaio quindi come fa la mente a selezionare a decidere questo lo tengo questo non lo tengo questo ipocampo che smista ecco con quali criteri agisce perché anche se ricordassimo tutto saremmo ugualmente paralizzati come se dimenticassimo tutto ma guarda vi faccio un esempio voi in questo momento siete seduti e avete un piedi i piedi che toccano per terra ma non ve ne accorgete però se vi dico fate attenzione ai piedi che toccano per terra sentite la sensazione che prima non sentivate o della schiena appoggiata al sedile cioè voglio dire che ci sono tantissime cose che ci arrivano e che non il nostro cervello non percepisce non superano il livello di coscienza fino a quando non la ricamiamo però se il pavimento cominciasse a muoversi subito o lo schienale a muoversi perché l'attenzione è richiamata dal movimento di qualunque tipo guarda sia visivo che sonoro guardate le ambulanze quando lampeggiano lo fanno perché hanno un'interruzione di sonnale cioè di varietà come anche il suono delle sirene come anche il rumore che abbiamo sentito prima infelizialmente se questo rumore fosse stato continuo stinto all'inizio nessuno ci farebbe caso ma c'è una variazione nell'ambiente che richiama l'attenzione non percepiamo quindi la normalità ma l'interruzione di una normalità ci vuole un segnale che esca dal rumore di fondo perché diventi percepibile qui adesso ci sarebbero altre domande per approfondire questo discorso che è interessantissimo ma io fare subito a Piero Angela la domanda delle cento pistole che cos'è l'intelligenza che cos'è la creatività allora questa cosa qui io volevo però fare una piccola aggiunta a quello che abbiamo detto prima perché tutte queste memorie e questo secondo me è molto interessante perché va in una delle che poi parliamo dell'intelligenza che va a creare il pensiero perché noi senza memoria non possiamo pensare allora non sappiamo come si richiamano queste memorie però ci possiamo porre delle domande e comincio con un esempio voi immaginate un picnic che avete fatto in campagna in montagna vi sarà capitato di intorno a un fuocarello di far cuocere un pollo le rivistecche c'è qualcuno che suona la chitarra ci sono ci sono i bambini che corrono e beh immaginate di avere questa immagine e di proiettarla su uno schermo quindi voi la potete visualizzare c'è l'intrare che aveva la camicia a quadre l'altro che sono anche target poi proiettate in uno schermo accanto la vera fotografia e vedrete che è completamente diversa è la stessa cosa ma diversa in ogni dettaglio sono tutti diversi quel pino non c'era l'altro era così il prato lì aveva dei sassi quel signore che suona la chitarra aveva la camicia righe e non la quadretta perché in realtà noi ricostruiamo un'immagine simile ma non uguale e allora ecco questa è la cosa interessante che la memoria non è una fotografia e questo apre tutto un discorso sulla testimonianza perché di fatto abbiamo parlato anche di questo anche nel libro testimonianze che poi a volte vengono indotte perché specialmente nei bambini e sappiamo che ci sono dei processi il professor Giorgio Strata si è molto attivato su questo per dire guardate ci sono testimonianze che non hanno nessun valore perché sono cambiate nel tempo ed ho avuto l'influenza di chi parla perché noi abbiamo questa cosa estremamente mobile per cui siamo noi a creare queste immagini e questi ricordi ovviamente non raramente succede che tu possa poi essere influenzato fino a questo punto ma succede allora dire ma cos'è immagazzinato per poter richiamare tutto questo perché lì la memoria si forma un'altra immagine per capire questo concetto quando siamo in uno studio televisivo noi abbiamo di fronte una telecamera con un occhio un occhio di vetro che è l'obiettivo lì il camera va dietro vede questa immagine noi la vediamo sul monitor però cosa succede che a un certo momento c'è un cavo nero che corre e che sparisce e che va su in regia in quel cavo nero non passa nessuna immagine passano degli impulsi passano dei segnali e che quando arriva sul monitor ritorna a essere un'immagine noi siamo così le nostre telecamere sono l'occhio il nervo ottico è il cavo che va su in regia è la regia qui dentro con la differenza che la nostra immagine non è elettronica ma è frutto di impulsi quando un'immagine arriva nell'occhio nella rete si sa bene che ci sono cento milioni di recettori che hanno alcuni colori rosso il blu il verde altri l'intensità luminosa i bordi poi quando parte nel cavo cioè nel nervo ottico per andarsi a diffondere ovunque per strada vengono divisi i segnali orizzontali verticali i contrasti di luce diventano diventano tutto sminuzzato diventano dei coriandoli di impulsi che vanno da tutte le parti perché se poi voi siete in un ambiente dove c'è temperatura c'è odori rumori tutti questi poi dagli altri vanno tutti insieme nel cervello allora com'è che avviene questo richiamo ecco questa è la grande però avviene l'idea che fa ricerca in questo campo è che ci siano già dei pezzetti delle sequenze come dire dei rametti già collegati tra loro cioè che siano dei parametri più che delle immagini e anche delle molecole d'immagine per esempio quando tu dici la parola cane e beh tu visualizzi un cane come lo vedi non è che vedi il pechinesio la parola cane se un bambino dice fai un cane un essere con un muso lungo con il naso con un po' l'umido con la coda con le zampe poi con tutte le varianti però c'è probabilmente il concetto di cane dentro il coso prendi ecco una palla e questa fa parte anche dell'apprendimento come le cose si ricollegano del bambino una palla com'è composta beh incominci a esplorare che è una cosa rotonda che è una cosa elastica che è una cosa liscia che ha colori e man mano queste cose si riuniscono insieme alla fine ti danno il concetto di palla allora questo permette alla memoria di essere capace anche di interpretare un oggetto che vede senza conoscerlo se tu vedi per esempio in un museo una mazza medievale con le punte di metallo anche se non l'hai mai vista sai che cos'è sai che è una cosa con delle punte che possono far male con un manico che la parte di metallo è più fredda di quella del legno eccetera e capisci che è una mazza e che è una mazza antica ecco la nostra capacità di continuare a visualizzare memorizzare ricostruire e di interpretare attraverso certe esperienze che applichiamo a contenuti nuovi mai visti però sono allora lì si arriva all'intelligenza cioè chi è capace a far meglio a capire che è una mazza a capire che è questo o molte altre cose allora intelligenza intelligenza non pensare che possa aiutarti in questo diciamo io ricordo ho scritto tanti anni fa una prefazione un libro molto interessante di due psicologi americani anzi era un inglese e un americano che si confrontavano sull'intelligenza innata intelligenza acquisita ora tutti sono d'accordo che le due cose c'è la macchina c'è il computer e c'è il software cioè i programmi che ci metti dentro quindi siamo fatti di natura e di ambiente ma in quale proporzione ecco lì c'è ancora molta discussione però al di là di quello il fatto è che se tu hai i tuoi geni la tua macchina noi siamo tutti diversi abbiamo tutti intelligenze genetiche diverse perché siamo fatti diversi diverse non vuol dire superiori o inferiori vuol dire per esempio c'è una cosa interessante che se tu fai i famosi test di intelligenza quello va molto bene per chi ha una visione più razionale matematica ma se lo fai un pittore probabilmente anzi senza altro ci sono degli test che mostrano pittori letterati persino gli inventori non è che fanno benissimo su questi perché si occupano di altre cose cioè il pensiero va in tante cose non è solo risolvere i problemi problemi sono importantissimi specialmente nella storia società è principalmente in certi lavori ma non necessariamente in altri musicista non ha bisogno di risolvere i problemi di matematica quindi diciamo che l'intelligenza è qualche cosa secondo me penso un po' questo risulta tra tanti studi è che lo sviluppo intellettuale è dell'intelligenza legato alla corteccia prefrontale probabilmente al numero di cellule che sono delegate a questa funzione c'erano altri che hanno cellule più numerose da altre parti ma quelli che fanno più diciamo che hanno le maggiori connessioni la capacità di sviluppare intelligenza e creatività di cui possiamo o meglio immaginazione è poco come giocare con due torre mazzi di carti tu fai il poker molto più facilmente mi hai suggerito una domanda che spero non ci porti troppo lontano però te la voglio fare sapete che Piero Angela ama moltissimo la musica la pratica è un bravissimo pianista jazz e da sempre suona il pianoforte e la sensazione che tutti noi abbiamo quando sentiamo una musica che ci piace è che il nostro cervello sta lavorando tutto insieme siamo immersi in questa musica tutto il cervello è attivo ma non sappiamo come cioè è una cosa che percepiamo confusamente ecco questa sensibilità musicale che è sostanzialmente in tutti in alcuni più espressa perché poi sanno anche suonare ma nell'ascolto con un po' di educazione tutti siamo bravi ascoltatori ecco l'attività di ascoltare una musica è positiva per il cervello è un massaggio per il cervello è utile? certo intanto bisogna dire che come tu hai detto la musica è apprendimento anche lei perché se tu prendi una persona che non è mai entrata in una sala da concerto gli fai sentire un concerto una sinfonia anche di Beethoven o di Bach probabilmente si annoia mentre apprezza molto di più una canzone semplice tanto più poi diventa più lo vediamo anche nel jazz che è il campo dove io opero pianisticamente soprattutto in passato c'era una un apprendimento che occorreva fare per andare a forme di modelli di stile più avanzati quindi questo vale per qualsiasi cosa anche per la lettura per c'è gente che si annoia a leggere un libro appena appena però allora qui ti porto alla creatività nel momento in cui improvvisi che cosa succede? allora ognuno ha prova un godimento intellettuale se la musica è a livello del suo livello di apprendimento musicale di educazione meglio musicare e quindi anche questo il fatto è che non si insegna la musica nelle scuole io guarda proprio anche qui a Torino avevo cercato di farlo con una fondazione di dare nelle scuole degli strumenti musicali e sabato pomeriggio domenica mattina degli istruttori dei maestri e lì fare quello che vuoi puoi fare la banda delle maggiorette o il tridi Mozart oppure il jazz i cori alpini qualunque cosa io sono rimasto molto colpito un anno tanti anni fa che mi trovavo a Capodanno a Miami e c'era la sfilata del primo dell'anno tra l'altro in testa la sfilata voi non lo conoscete ma c'era il famoso comico di film americani Bob Hope non lo ricordo Bob e hanno sfilato credo una sessantina di orchestre ognuna delle quali di 30-40 elementi delle scuole e tutti in divisa suonavano ecco questa cosa in Italia è molto poco diffusa c'era una volta nei paesi nelle bande musicali si faceva molto oggi è sparita questa cosa e se si fa musica non solo si ascolta si fa musica come anche se tu fai pittura ti metti non è che vai solo vedere le mostre ti metti lì col pennello capisci dall'interno hai voglia di migliorare soprattutto se suoni insieme a degli altri c'è l'emulazione c'è il piacere di stare insieme di costruire di fare magari un piccolo concerto questo ti porta poi anche ad andare nelle sale di concerto non di colpo che ti prendono di peso ti portano ad ascoltare quindi un'educazione musicale da cominciare allora l'educazione musicale si fa in questo modo come anche le lingue le lingue non si insegnano a scuola io ho studiato otto anni il francese quando sono andato a Parigi non sapevo parlare per niente ho dovuto imparare le altre lingue che mi erano utili per conto mio imparando le parole tu sai che a proposito tu incidavi prima questa commissione del ministero dell'educazione e della propria istruzione che mi ha coinvolto io ho detto guardate io non so niente ma lei venga come battitore libero per la patria va bene e avevo messo quella cosa tu hai citato che secondo me è molto interessante di mettere prima elementare una bilancia come dire imparare che se tu metti una cosa da una parte devi mettere un'altra dall'altra perché altrimenti quindi abbiamo l'abitudine solo i vantaggi non gli svantaggi ogni volta che tu vuoi vantaggio con cosa lo paghi e poi le bilance multiple per vedere un po' come immobile tu posti un peso qua per avere un'idea sistemica dell'insieme e allora cominciare ad avere una visione di insieme sistemica come avviene negli scacchi che purtroppo non si insegnano a scuola che anche danno questa capacità anche dei tempi della progettazione eccetera beh comunque in questa commissione uno degli altri suggerimenti che ho fatto parliamo dell'inizio degli anni 80 era dell'insegnamento dell'inglese nella scuola elementare no non si fa perché perché turba la mente del pampino guardate che turba la mente se non impara l'inglese difatti tanti studi mostrano oggi che l'apprendimento di due lingue sviluppa l'intelligenza sviluppa tutte le altre facoltà dell'intelligenza mi si diceva bisogna imparare alcune addirittura hanno detto l'esperanto gli altri dicevano non ci sono i professori d'inglese non importa intanto cominciate a imparare le parole poi la grammatica viene insomma per dire qui c'è anche un problema di svecchiare un po' tante cose che lo dico io che sono quasi un centenato noi vogliamo svecchiarci quindi ringiovanire intanto vi do approfitto dell'applauso per darvi una notizia c'è un pubblico che assiste in streaming nell'insegnamento c'è tanto da fare è cambiato tutto nel mondo la scuola è cambiato molto poco da quando andavo io a scuola a Torino perché forse non la sapete ma io forse lo sapete io sono proprio torinese doc nato qui pensate che la mia famiglia sia da parte di mio padre che mia madre è della provincia di Torino almeno dal 600 quindi proprio allora ricordiamo ricordiamo anche che il papà di Piero Angela ha avuto un ruolo di cittadino un ruolo civile molto importante nella resistenza nel salvare degli ebrei e così via il papà di Piero Angela ha fatto delle grandissime cose allora quello che volevo volevo darvi però come notizia è questo Pino Zappalano ha portato qui un biglietto che dice c'è un pubblico che assiste in streaming anche nell'aula magna vecchia del rettorato quindi nell'altra parte di via verdi questo vuol dire che in due due e una magna quindi questo vuol dire che quei tafferugli che c'erano prima sono stati sedati in qualche anno allora Piero Angela abbiamo parlato di intelligenza abbiamo solo sfiorato la creatività io stavo domandandoti ma che cosa provi quando improvvisi al jazz che è il momento creativo del jazz e poi in generale della creatività sai c'è una cosa da dire nel jazz che non sempre viene ben percepita io ho studiato anche musica classica ho dato l'esame del quinto anno per paravolo ottavo quindi più o meno la cosa la conosciamo però chi suona musica classica è di fatti lo si chiama un esecutore un interprete ma non è lui il creatore è qualcuno che ha uno spartito impara difficile lungo poi mette la sua personalità la sua capacità di interpretare è una specie di creatività imbrigliata nell'interpretazione e basta il jazz tu sei il compositore sei tu che compone la musica nel senso che si sa ci sono un po' come veniva nel settecento ma anche nell'ottocento Mozart ma anche Beethoven Leeds Chopin nei salotti improvvisavano su dei temi quelle che si chiamano le variazioni sul tema no c'era questo piacere oggi si fa meno di improvvisare oltre che di comporre perché erano dei grandi compositori e quindi in leggenza è un po' questo tu hai un tema sul quale fai delle variazioni più o meno bene dipende dalla capacità o dalla genialità di chi compone in quei tempi in tempo reale e quindi c'è questo piacere di inventare non solo di eseguire parola piacere è molto importante cioè nell'inventare nel creare c'è un enorme piacere è la cosa di base tu devi fare le cose che ti piacciono fare perché vuol dire che hai non solo una predisposizione ma ti impegni a farle sai c'è un detto che dice fai un lavoro che ti piace non lavorerai per tutta la vita e questo purtroppo non è che può essere una cosa di tutti i giorni ma chi riesce a fare questo veramente è fortunato devo dire che io sono in questo stato fortunato ho potuto fare un lavoro che mi piaceva e continuo a farlo malgrado posso dirlo in mei anni no ma li sanno perché sono scritti nelle ciclopedie nei libri avrei io in pensione poi anche i pensionati ma lì ci arriveremo avrei poi abbiamo ancora un po' di tempo avrei poi le ultime domande su questo però mi aggancerei allora a questo discorso della creatività e del cervello e dell'intelligenza per parlare di un'intelligenza che stiamo celebrando quella di Albert Einstein siamo a 100 anni dalla relatività generale sono state appena osservate per la prima volta in modo diretto perché in modo indiretto erano già state osservate le onde gravitazionali e sapete che c'è sul cervello di Einstein una leggenda un'epopea addirittura perché il suo cervello fu sottratto in sala anatomica e fu trafugato trafugato e fatto a fettine no più trafugato non è stato così adesso vorrei che ci raccontasse un po' la storia di questo cervello e che cosa si può evincere da fettine di un cervello di Einstein si evince qualcosa o non serve a niente sì la storia che è stata ricostruita recentemente è che quando lui morì nel 55 c'era un centro che aveva chiesto di poter esaminare il suo cervello e l'esecutore testamentale di Einstein rifiutò dando però la facoltà di farlo a un patologo che era dell'ospedale in cui morì Einstein questo qui non era un esperto in neurologia quindi in realtà non era la persona adatta per farlo però lo fece e pensa e se l'è portato a casa però se l'ho portato all'istituto penso nella casa messo in formalina che tra l'altro guasta tutto pensa che ha tagliato il cervello di Einstein in 240 cubetti con una specie di spezzatino per poterlo studiare nelle sue varie parti e gli ha fatto anche dei slides delle fettine sottilissime è online tra l'altro poi ha conservato questa roba sotto formalina è venuto fuori ma in tempi recenti un giornalista cercando a dire che fino a fatto il cervello l'altro altro è stato dato poi in studio ad un istituto specializzato e insomma in realtà non è venuto fuori niente perché ovviamente non è che tu trovi dentro il cervello il genio trovi esattamente come tutti gli altri però è stata osservata una cosa che aveva il corpo calloso più spesso il corpo calloso è quella parte del cervello che divide gli due misteri e li connette e li connette la parte di collegamento un po' come una noce che ha le due cose poi c'è quella parte interna che collega e allora ci sono delle ipotesi cioè che sai che si dice è vero fino a un certo punto che una parte del cervello è quella sinistra più analitica quella di destra più di sintesi e che questo maggiore collegamento tra questa analisi e sintesi abbia favorito questo favorisce un pensiero più più fluido probabilmente così tanto io non vi consiglio di studiare l'intelligenza nell'effettino del cellulo di Einstein però vi dico che in autunno a novembre si inaugurerà a Torino una mostra sulla relatività su Einstein e su Tullio Regge che molti ricorderanno appunto come un grande fisico e anche un grande divulgatore e quindi guarderemo dentro il cervello di Einstein ma in un'altra maniera attraverso le cose che ha scoperto e che ha intuito e quindi siete invitati a questa questa iniziativa che si sta preparando a Torino io avrei un'altra domanda che è più difficile di quella dell'intelligenza e della creatività siamo liberi? ah beh allora rapidamente parlo di intelligenza e creatività perché la mia definizione personale io vorrei intanto dire una cosa io vado un po' a rota libera nel mio libro ho scritto le cose in modo un po' più formale corretto qui magari mi lascia andare a cose un po' più per cercare di fare dell'immagine comunque diciamo secondo me l'intelligenza è la capacità di rispondere a una domanda e la creatività la capacità di rispondere a una domanda che non è stata posta eh questo è molto bello questo è un po' quindi di inventarsi la domanda non nemmeno però c'è una cosa interessante io ho conosciuto tanti anni fa uno psicologo negli Stati Uniti che si occupava di creatività intanto mi diceva una cosa che bisogna distinguere bene tra immaginazione e creatività perché l'immaginazione per fare un esempio banale è che Leonardo da Vinci è che Dante Alighieri si mette sotto un albero e dice sai che ti dico io adesso mi immagino di scrivere la Divina Commedia allora faccio questo 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 ma non la scrive la creatività è scriverla e la creatività comporta non solo ovviamente la capacità mentale l'immaginazione ma fatica impegno Michelangelo quando ha fatto la Cappella Sistina la parte immaginativa della sua artistica era forse la parte minore perché ha dovuto faticare litigare col Papa cercare i fondi stare appeso la posizione impossibile quindi la creatività comporta tutto questo la capacità di fare e quindi di fare però con intelligenza con immaginazione abbiamo ancora dieci minuti e domande per tre ore quindi io ti farei la domanda di prima cioè siamo liberi siamo intelligenti siamo creativi ma siamo liberi capirai allora ti do le mie le mie risposte qui ognuno ha la sua idea ti do la mia quindi non pretendo che altri la condividano diciamo che noi siamo profondamente condizionati dal fatto che abbiamo un cervello stampato uscito da una Fiat per così dire evolutiva non c'è più ha quelle caratteristiche non altre c'è gente che è stonata e c'è sempre stonata gente che non sa dipingere altri che invece sono dei geni che già a cinque anni come feceva Leonardo facendo dei disegni straordinati allora e altri che sanno di matematica o che dirigono l'orchestra l'ottone allora ognuno ha i suoi talenti che poi la precocità ancora un altro discorso non è che sia vuol dire che sia arrivato prima ma non è che poi continui famosi allora l'intelligenza genetica è quella che ci dà madre natura l'intelligenza acquisita è quella che ci dà l'ambiente ed è insieme di queste due cose però l'intelligenza o comunque il comportamento acquisito è quello che ci dà l'ambiente e quindi anche questo è un condizionamento fortissimo ti parlavo prima del bambino lupo questo ha condizionato l'ambiente non ha potuto esprimere la sua libertà perché poteva fare solo quello analogamente le persone che hanno la capacità di studiare hanno la capacità di lavorare molto meglio e di pensare di essere liberi ma ti faccio un esempio noi abbiamo letto anzi devo recitare prima una frase che a me ha colpito molto che ogni tanto puoi scrivere i miei libri sembra che sia di Voltaire a volte attribuiscono a Voltaire però gli sta bene io sono libero di volere le cose di fare quello che voglio sono libero di fare ma non sono libero di volere quello che voglio perché se tu ci rifletti questo è il limite della libertà individuale perché tu sei condizionato fortemente dalla tua intelligenza in nata ma dal tuo ambiente e ti faccio un esempio tu immagina anziché essere nato qui a Torino fatti i tuoi studi di filosofia essere diventato un grande giornalista esperto guardate questa è una persona straordinaria io lo cito sempre tra le poche persone una persona intelligentissima non divaghiamo dalla domanda non divaghiamo troppo comodo sfuggire alle domande e così faccio un esempio un giorno è uscito un suo libro un po' di anni fa e ha detto ma non ho visto la tua recensione sulla stampa perché lui era il responsabile di tutti i libri della stampa e lui mi dice ma io sono fiero che il mio giornale non abbia recensito il mio libro può essere interpretato in due modi questo è rarissimo vabbè no torniamo torniamo a questa libertà allora detto tutto questo allora facciamo un esempio invece di aver avuto questa vita tu nasci in un villaggio talebano dove c'è il consiglio degli anziani che decide di lapidare una donna e di non mandare le bambine a scuola e tu saresti lì con la barba bianca a dire questo o no o tu immagini che faresti in quel consiglio degli anziani dire no ma guardate Volter ha detto questo ma allora la cultura rende liberi? o è anche quello un condizionamento? quella è anche una cultura appunto noi siamo tutti condizionati allora molta gente o è la tolleranza che rende liberi nell'ambiente chi studia queste cose è completamente convinta che noi non siamo liberi per niente siamo liberi se vuoi la mia definizione di libertà poi ne certo ne do anche un'altra è che noi la libertà è la capacità di poter esprimere liberamente i propri condizionamenti eh questo è molto sottile cioè noi siamo condizionati però tu sei libero cioè il talebano ma come questa qui è la cosa che devo fare tu la pensi diversamente devi essere libero è la cosa che se ti impedissero di fare le cose che tu senti di fare perché fa parte della tua cultura della tua esperienza della tua personalità ti senti privato della tua libertà e un altro si sente provato in modo contrario della libertà ecco però se vuoi ti do una finale un po' più meno pessimista o meglio più ottimista ed è questo che noi abbiamo quindi due tipi di memoria quella genetica che ci dà tutta la struttura e quella acquisita che ci dà tutto l'ambiente e quindi i condizionamenti ambientali ma non lo si dice mai ma c'è un terzo tipo di memoria che è quella che deriva dalla tua elaborazione interna dalle informazioni cioè quando tu pensi e cominci a ragionare e cominci a associare delle idee e cominci a creare delle cose queste cose qui formano delle memorie interne che sono delle memorie che tu stesso hai creato che non vengono dall'esterno ma vengono dall'interno e vengono dal tuo interno allora tu in questo modo almeno in parte ti puoi sottrarre a queste due memorie che ti sono quasi timbrate imposte e lì c'è uno spazio di libertà in queste memorie costruite e lì c'è uno spazio se vuoi di creatività nel pensiero dove tu sia pure con pezzi di lego dati da altri cioè dalla natura e dall'ambiente e costruisci delle tue piccole cosine ecco vabbè dunque io mi accontento di questo io adesso devo per forza arrivare all'ultimo tema dobbiamo saltarne parecchi l'ultimo tema è l'ultimo tema ci vede come due esperti è la terza età o la quarta o la quinta io sono la quinta ecco che cosa che cosa succede al cervello invecchiando allora il cervello comincia a perdere i neuroni dalla nascita questo è tanto per dire e anzi ne perde tantissimi all'inizio poi sempre meno non è vero che nell'età anziana si perdano tante cose sì si perdono i neuroni non parliamo di malattie perché allora lì di una vecchiaia sana parliamo di persone che invecchiano normalmente allora si perdono però la ridondanza è tale per cui tu non hai veramente questo problema più che il numero dei neuroni è il funzionamento del sistema che perde pezzi o perde efficienza però c'è anche una cosa a dire che ogni volta che noi impariamo qualcosa è come un albero che mette delle foglioline io sotto casa mia a Roma ho una quercia fantastica bellissima non so quanti anni ha poi si spoglia d'inverno e poi rimette sulle foglie e ogni volta ci sono dei rametti che crescono e continuano a crescere e per noi è la stessa cosa noi diventiamo vecchi ma continuiamo a arricchire il nostro cervello la capacità delle nostre memorie di continuare alimentare la rete nervosa è eterna e allora a questo punto cosa vuol dire questo che se tu conservi lungo tutta la tua vita la curiosità di imparare di conoscere il piacere di scoprire allora tu quando sei anziano sei ancora giovane sei ancora ricco di cose se stai bene di salute ecco io devo dire che spesso dicono che la mia la mia macchina la mia automobile ha più di 80.000 km ma il guidatore ha sempre 45 anni ecco almeno me li sento e allora si tratta di organizzare perché se io fossi un dipendente a Rai cosa che sono stato per un breve tempo ma quasi mai sono sempre stato un esterno sarei in pensione ormai ma mi sono posto ma io cosa farei in questi più di vent'anni di pensionato cosa vuoi fare allora bisogna e io lo dico sempre anche mi ricordo degli operatori dico ragazzi preparatevi la terza età perché qui si invecchia sempre di più e quindi tu non puoi fare solo andare ai giardinetti a leggere il giornale e portare il cane a spasso o fare l'amministratore del condominio se va bene ti devi creare degli interessi allora devi continuamente imparare la nostra è una macchina fatta apposta per imparare lo dico anche i giovani preparatevi già per la vecchiaia perché in realtà si comincia da subito perché non si può per un certo momento cambiare modulo il fatto di essere curiosi interessati di leggere di avere i contatti scrivere fare della musica inventare poi naturalmente il lavoro può essere anche non piacevole però cercate anche di trovare interessi nel lavoro c'era una storiella che mi aveva colpito che mi aveva raccontato un famoso personaggio un economista e dice un giornalista che va a vedere degli operai che stanno lavorando in una cava e stanno rompendo delle pietre con con un martello con una mazza e allora passa il primo e dice allora che ne pensa del suo lavoro dice ma vedi che schifo è qui tutta la giornata rompere la roba per quattro soldi che ci danno passa il secondo e dice e lei beh guardi il lavoro non è granché lo paga però io poi a casa mia mi arrangio i miei hobby e quindi porto a casa la cosa arriva il terzo e dice dai non vede che sto costruendo una cattedrale allora al di là della metafora io credo che poi se uno riesce ad essere creativo nel proprio lavoro invece invece del suo capisco che non è sempre possibile ma a me ha colpito molto tantissimi anni la prima volta che sono andato a Londra c'era un facchino che mi ha preso la valigia davanti all'albergo Sir mi era indivisa per noi era era una specie di un personaggio nella sua parte completamente immerso e quindi con una grande dignità del suo lavoro ecco mantenere la dignità nel lavoro il rispetto di se stessi ma anche mettere nel lavoro di tuo non lasciare di oddio questa roba qui non vedo l'ora di andarmene altrimenti soffri quindi la maggior parte della tua vita è lì dentro devi cercare di adattare il lavoro a te non che il lavoro ti domini questa cosa questo aneddoto di Londra e del facchino mi ricorda il mio professore di italiano che era Enrico Andreoli noi abbiamo fatto il liceo nello stesso liceo cioè al Dazzeglio e al Dazzeglio Andreoli diceva la differenza è questa tra un italiano e per esempio un inglese che l'inglese ti risponde io sono facchino l'italiano ti dice io faccio il facchino ma vale anche per il giornalista io sono giornalista dice un inglese noi diciamo facciamo i giornalisti cioè noi non ci identifichiamo mai fino in fondo e non dimostriamo quindi il piacere di fare quella cosa che stiamo facendo mentre loro sì e si può crescere in questo piacere da facchino si può diventare giornalista o viceversa senti mi ricordo una cosa che è venuta in mente proprio quando tu dici io ho vissuto tanti anni a Parigi nove anni e a un certo momento a casa arriva un signore che suona la porta all'inizio che eravamo in questo appartamento che era l'ispettore del gas chiede io per vedere il gas e si è abituato a vedere l'ispettore del gas questo qui era un signore molto distinto che si toglie il cappello e dice je suis l'inspecteur di gas non faceva l'ispettore lo era je suis l'inspecteur di gas il sottotitolo di questo libro viaggio dentro la mente che poi troverete anche fuori se lo vorrete magari siete tanti ma insomma potrà firmarne qualche copia Piero Angela il sottotitolo dice conoscere il cervello per tenerlo in forma quindi in questa parte finale di questi pochi minuti che ci rimangono io gli chiederei proprio questa questa formula cioè come tenerli in forma in parte ce l'ha già detto perché ha detto mantenete la curiosità mantenetevi attivi costruitevi degli interessi ecco tutte queste sono cose cose che sicuramente vanno bene e che contrastano stranamente poi con l'atteggiamento di di molti che invece vorrebbero smettere di lavorare quanto prima provocatoriamente io vorrei dire che con tutti i problemi che poi sono anche venuti fuori la legge Fornero non è un provvedimento di tipo economico è un provvedimento di tipo sanitario perché hanno scoperto hanno scoperto e ci sono dati pubblicati su riviste molto attendibili hanno scoperto che ogni anno di lavoro in più è un allungamento della vita cioè si allunga la vita biologica e si allunga soprattutto la qualità di questo allungamento allora non è che sia la panacea contro l'Alzheimer il continuare a lavorare per sempre però certamente aiuta quello che bisogna fare in una società è che questi lavori fatti in età avanzata non sottraggano lavori più giovani ovviamente questa è la prima cosa e che siano anche adeguati come impegno all'età di quegli anziani che continuano appunto a lavorare ma appunto la domanda a Piero Angelo è proprio questa allora intanto lavorare si direbbe conviene fa bene ma ci sono degli altri segreti degli altri suggerimenti che si potrebbero dare per chi è curioso nell'ultima parte del libro c'è proprio tutta una serie di suggerimenti che riguardano come dicevo prima un po' tutto il percorso perché è come un atleta uno può a 65 anni mettersi a fare atletica o a fare giochi se non l'ha mai fatto se tu vuoi mantenere questo tipo di attività devi comunque avere prima uno sbocco diverso perché si smette di fare un lavoro che sai fare e arrivi in una zona dove non sai più cosa fare e allora ti devi preparare ti devi studiare da vecchi per diventare anziano e poi per quanto riguarda gli esercizi veri e propri io parlavo prima con una persona che è qui dell'Unitredo l'università della terza età quello va benissimo è un luogo in cui uno trova delle persone perché anche questo è importante non bisogna restare soli quando si è anziani perché si perdono gli amici purtroppo i parenti e uno finisce che si rinsecchisce anche rimanendo da solo deve invece trovare una rete di persone che hanno interessi comuni e questo mantiene molto vivi poi ci sono anche piccole cose di esercizi fare le settimane mistica è vero vogliamo farla perché questo sviluppa un po' tiene in tensione il cervello per così dire ma per esempio alcuni dicono imparate a scrivere con la mano sinistra perché così esercitate il cervello oppure imparate una lingua straniera oppure imparate uno strumento non è mai troppo tardi imparare la musica va benissimo io ricordo che c'era un mio amico a Parigi che aveva un vicino di casa che suonava che era un impiegato aveva compiuto credo 60 anni e a quel punto ha deciso di smettere di lavorare e di suonare il violino tra le desarrois della famiglia perché dice oddio perché a un certo momento uno decide di fare un'altra cosa che sa fare o che vuole fare nella quale si impegna insomma la terza età è un'epoca viva dove specialmente oggi sapete l'età media all'età di mio padre quando è nato mio padre in Italia era di 42 anni oggi è di più di 80 è raddoppiata nell'arco di una generazione si andrà avanti sembra di più tra l'altro c'è una cosa che non viene mai detta un bambino che nasce oggi nel 2100 che sembra la fantascienza avrà meno di me come età cioè e voi giovani che avete oggi 18-20 anni 22 anni vivrete fino al 2080 quindi avrete una vita completamente tra l'altro tutto l'apprendimento che sarà necessario quindi può girare le rotelline molto in fretta perché sarà un mondo che cambia rapidamente quello dovete puntare sul cervello anche lo studio non deve essere quello di prendere la sufficienza dell'interrogatorio guadagnare la promozione avere una laurea quelle robe lì servono solo come palestra per fare ginnastica perché poi quello che vi richiederà la vita è continuamente di cambiare mestiere di salire su nuove opportunità quindi preparare anche l'età anziana in questo modo chi arriva all'età anziana con un cervello che funziona aperto curioso capace di adattarsi perché nella vita è questa l'adattamento la storia della vita è una storia degli adattamenti di tutte le specie viventi e ormai diventa dentro una specie vivente perché se no siamo noi che cambiamo viviamo molte vite nell'arco di una vita vi faccio un esempio mio padre era nato nel 1875 al suo tempo non era ancora stata neanche inventata la bicicletta ebbene lui ha visto la bomba atomica mia madre mi raccontava che nel 1904 lei era una ragazzina ricorda di aver visto a Torino i manifesti degli primi tentativi di volo che faceva un certo De La Grange e c'era scritto in un prato di periferia De La Grange volerà o non volerà ebbene mia madre ha visto lo sbarco sulla luna allora voi vedrete cose altrettanto diverse e straordinariamente diverse e ancora di più perché c'è un'accelerazione straordinaria e quindi il cervello è veramente la sola cosa in cui si può puntare per avere anche vivere consapevolmente la vita ma essere in grado poi di saltare sui carri che ogni volta si presentano sapete che adesso per la prima volta parlando del cervello il cervello ha un competitor che è la macchina recentemente è uscito qualche anno fa un famoso libro di due studiosi di Harvard Economist e Technology che si chiamava The Race Against the Machine la corsa contro la macchina poi hanno scritto altri libri dopo perché quello che sta avvenendo ormai lo si sa e lo si dice c'è una perdita del lavoro su tanti fronti c'è uno studio di Oxford che prevede che nel 2050 quando voi avrete giovani avrete dei 50 anni la metà dei lavori saranno o potranno essere fatti da macchine e quindi bisogna governare le macchine oppure fare dei lavori che superano la macchina che sono fuori dal mietitrebbia della macchina perché altrimenti lì si è falciati e quindi tutti i lavori esecutivi saranno molto concorrenziati dalle macchine bisogna fare dei lavori creativi io lo vedo anche nel mio lavoro le persone che mi scrivono tanti giovani mi scrivono con il loro curriculum 110 lode eccetera va benissimo però questo è solo diciamo la base sulla quale se tu hai dovuto dei buoni voti poi devi dimostrare di essere capace di interagire di comunicare di saper comprendere quello che è il tuo lavoro partecipare proporre queste e continuare a imparare e continuare a imparare quindi io quello che consiglio veramente ai giovani di sapere che entrano in un mondo complicato estremamente competitivo perché una volta perché figlio del mugnale faccio il mugnale il figlio di faglianame faccio il faglianame poi altri l'entrata nelle fabbriche il posto fisso non è più così e quindi l'archezza mentale è quella che conta e anche la capacità di essere creativi per quanto possibile dobbiamo davvero chiudere abbiamo ancora qualche minuto anche perché negli altri posti dove ci stanno seguendo in streaming si chiudono i battenti qui forse potremmo fare un'occupazione pacifica ma negli altri posti non si può allora direi usiamo questi ultimi minuti per fare qualche domanda Piero Angela c'è uno forse ci sono due microfoni già pronti ecco ci sono marie mani alzate domande sul cervello rimaniamo un po' mirati sul tema buonasera buonasera la domanda che volevo fare era riguardo gli sviluppi che ci stanno venendo nella robotica e di come questo può migliorare o peggiorare la nostra vita dunque quanto la robotica può migliorare o forse peggiorare la nostra vita cioè appunto il tema che toccavi ultimamente dell'intelligenza dei robot l'intelligenza artificiale l'automazione l'una cosa e l'altra la migliora quando ci permette di fare le cose meglio senza fatica eccetera può peggiorarla se fa perdere il lavoro quello che sta succedendo e quindi dobbiamo come si diceva appunto la corsa contro la macchina bisogna tra l'altro uno dei consigli diciamo che vengono dati da questi esperti è di correre con la macchina non contro la macchina perché la macchina sarà più forte di noi cioè non si può dire fermate il mondo voglio scendere perché non si può bisogna capire come funziona la macchina e correre con la macchina utilizzarla e viaggiarci in cena insieme altre domande buonasera ma ogni tanto capita di trovare dei corsi per per esempio migliorare le capacità cognitive o per ampliare la memoria ecco volevo capire a parte appunto come diceva lei esercitare il cervello imparare la musica fare la settimana enigmistica ma è possibile veramente che si possono migliorare le capacità cognitive con un corso magari in giovane età e per una persona sana quindi non con dei deficit cognitivi se si può migliorare la nostra prestazione intellettuale con dei corsi seguendo dei corsi con delle esercitazioni non nel caso della malattia ma nel caso della della normalità non parliamo mai di malattie perché allora lì è diverso sì penso di sì dipende da come sono fatti i corsi da chi li fa evidentemente non si può pretendere di colpo uno dei cambi ma però tutto quello che si fa può essere routine se è fatto bene ma se se un bambino quando fa prima elementare non non gli piace nessuna materia ma cioè e cioè il cervello non sviluppa non non sviluppa nessuno nessun talento per per nessuna materia sì dunque la domanda è se un bambino che è nelle scuole elementari nelle scuole primarie e non ha interesse per nessuna materia non svilupperà nessuna abilità intellettuale cioè in altre parole lo sviluppo del nostro cervello è davvero legato allo studio di determinate materie che sono quelle che poi studiamo e questa è la domanda corrisponde? sì ok cioè veramente bisogna vedere caso per caso ci sono dei ragazzi che studiano poco sono molto intelligenti che poi trovano la loro strada e trovano l'insegnamento pedante oppure perché hanno vocazione di autografare magari il musicista c'era una famosa vignetta di novello che era quel disegnatore che sulla stampa faceva negli anni 50 e 40 dei bellissimi disegni c'era un bambino che aveva avviato dai genitori gli studi di musica c'era il violoncello la maschera di Beethoven di nascosto di notte si dedica ai suoi preferiti studi di ragioneria e quindi ognuno poi va collocato nel suo contesto c'è ancora una domanda poi chiudiamo prego nel caso di una base culturale molto specializzata per esempio se già in famiglia viene dato un'istruzione basata su cose tipo letteratura oppure altri tipi più materiali o di intelletto a base di calcolo come matematica scienze tecniche le preferenze in futuro possono essere più varie nel senso che la mente è abbastanza elastica da cambiare nel futuro abbastanza da cambiare preferenze nonostante l'educazione iniziale quindi il condizionamento che uno può avere in famiglia per una certa materia una certa disciplina non so in casa ti dicono ah devi diventare ingegnere devi studiare ecco questo condizionamento subito da piccoli può poi essere superato e magari invece uno trova la propria vocazione più tardi per conto proprio contro quel condizionamento guarda io quando sono nato l'infermiera uscendo dalla sala parto non ha detto è un maschio ha detto è un ingegnere perché perché questa doveva essere doveva essere il mio futuro ecco i risultati che vediamo sai cosa c'è che oggi è difficilissimo sempre per un ragazzo capire la propria vocazione e scegliere anche se poi ci sono dagli studi degli indirizzi ovvi che uno comincia ad avere però l'esperienza mia è che anche di lavoro ci sono persone laureate in materie completamente diverse dal lavoro che fanno per esempio mi diceva un manager uno che si occupava di formazione di classe dirigente nelle industrie che i fisici sono degli eccellenti manager e quindi che sembrano due cose completamente distanti perché hanno la capacità di capire meglio gli insiemi come si come si incrociano le cose un po' come un problema di matematica visto a livello aziendale c'è una signora che recentemente ho conosciuto laureata in biologia che si occupa di economia che fa un'azienda quindi è quello che è importante sempre avere attraverso gli studi la capacità di sviluppare le proprie possibilità e poi le specializzazioni possono aiutare a fare cose molto diverse per questo è importante non solo seguire lo studio ma come dicevo prima avere curiosità seguire altre cose essere nel mondo non dimenticare tutto quello che di nuovo sta succedendo e quindi essere pronti a delle nuove opportunità sulla parola opportunità che è una bella parola noi chiudiamo questo incontro un applauso a Piero Angela e adesso potete farvi firmare il libro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti